è saltato il mondiale per club perché mancano i soldi ed è giusto così tritico di partite clamorose soprattutto udine e la partita con il torino di vanoli in mezzo la controprova della champions ci interessa o non ci interessa ieri sono stato a vedere il film della nostra magica inter pelle so che l'ha visto oggi anche lo stalker che saluto è stato un film emozionante dove una delle cose che mi riporta all'attualità oltre al colpo di testa di gabbia dove poi sulla ribattuta il milan fa il gol inutile nel derby di ritorno quello della stella in faccia però gabbia era già lì e quindi dovevamo prestare più attenzione e non l'abbiamo fatto così come nel film dell'anno scorso scusate nel film parlando dell'anno scorso si parla di non mi ricordo la scena aiutate mi chiedo aiuto a voi a un certo punto non mi ricordo se marotta in zaghi no non dice quello o lo dice qualcuno nello spogliatoio o lo dice qualche giocatore o marotta non lo so nella sala coppe ma a un certo punto viene detto l'anno scorso avevamo un solo obiettivo e ci eravamo tarati su quell'obiettivo avevamo deciso che quello era l'unico obiettivo lo dicono con una tale forza una tale convinzione una tale veemenza che quello che io pensavo fosse un grandissimo obiettivo l'anno scorso questa cosa la sapevo l'avevano detta tutti gli organi della società e era stata confermata dai vertici quest'anno invece è stato detto altro allora la partita con la stella rossa servirà a capire se la direzione è quella della champions del campionato del percorso dei soldi ok poi devo dire qualcosa mi interrompo subito sul discorso jonathan david a quel verme del faina e anche luca cohen che è veramente uno proprio un verme strisciante verme cane io non ho mai detto nulla non mi permetto di dire che jonathan david all'inter che è una cazzata ho detto che c'è un accordo totale saluto tra l'altro e dedico il video allo squalo di 105 mio fratello che è andato a fare un piccolo intervento in ospedale alla spalla ciao squalo notizia clamorosa sua e del bauscia che riguardava david e jonathan david non è che è dell'inter ha un accordo con noi poi forte talmente forte che alcune squadre hanno mollato il colpo talmente forte che lui è convinto di venire talmente forte che l'inter ci ha lavorato parecchio soprattutto con osiglio talmente forte da battere tutti no perché come abbiamo visto a volte gli accordi possono saltare a volte gli accordi possono essere strappati bruciati anche traditi scusate da ma non solo la gente che arriva con più soldi anche dai giocatori stessi quindi però ecco l'indirizzo ecco che quello che io volevo dire su controcazzo eccetera era che l'indirizzo e la strada è tracciata verso jonathan davide poi mi hanno fatto il cazzo che su cui c'è quel cesto di twitter perché poi prendono il servizio e lo tagliano in realtà è molto semplice hanno tagliato il pezzo in cui ho detto che la juve si sta facendo sotto per davide e forse lo farà già a gennaio dando volendo dare dei soldi alla squadra francese tornando a noi è saltato il mondiale per club perché questo c'entra con le partite di udine di torino con 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 la nuova champions ma soprattutto con i soldi attenzione perché veramente la notizia dell'ultima ora è c'è il mondiale per club a rischio mancano i soldi e sponsor l'inter e juve sono in stato allerta leggo un articolo che prendo da internews tra l'altro tra poco mezz'ora sarò su internews a fare una bella intervistella con mio fratello raffaele quindi siamo live per una mezz'oretta ma intanto anticipo questo insomma ieri praticamente ve la faccio breve aspettavano che portassero i milli cioè i soldi e come racconta la gazzetta allora dai quanti soldi abbiamo raccolto per il mondiale per club che ci sarà nel mese da metà giugno metà luglio zero zero un cazzo ok allora infante infantino si scusate si infantino in panico grande interista ha chiamato gli albi o vi interessa far vedere le partite tra l'altro tra l'altro il problema non è solo di quello cioè della visione della vendita dei diritti tv ma è anche il discorso di ma scusa ma allora se le partite non le vendiamo perché dobbiamo sistemare gli stadi perché c'era la apple che doveva fare delle robe che però non fa un casino sta poi accadendo un'altra cosa che di colpo tutti si sono accorti che l'evento no questo primo mondiale per che non è una brutta idea il problema è che abbiamo riempito il calcio di eventi perché c'è già l'europeo nel 21 la gold cup della conca caff e poi c'è il mercato aperto gli svincolati un casino è un casino ovvio che i sindacalisti e i sindacati dei calciatori così come anche tanti addetti ai lavori visti gli infortuni sono siano già sul piede di guerra e quindi è un bel cinema infatti c'è un overdose di calcio che anche un po' too much questo mondiale per club deve sgomitare per trovare posto ma sulla carta è un'idea della madonna però evidentemente o dovevi per me il primo numero lo dovevi fare in europa poi dopo portavi il format in giro cioè come se non del mobile non è che se non vuoi il mobile lo fai porco zio dove lo fai lo fai scozi al seno del mobile poi lo vendi il formato dove no il seno del mobile lo fai qua perché chi game bria in sé qui ci sono i milanesi che hanno fatto i mobili poi il dalissone porco due prendi il format che ha fatto il mitico cavaliere mi ricordo il nome l'ho anche conosciuto numero uno prendi che c'è mancato prendi anzi un saluto alla sua signora che è sempre gentile mi invita sempre a bere il tè e io spesso la bidono che abita lì in san babila saluto malio malio si chiama malio madonna vabbè l'inventore del seno del mobile ha io vi do queste chicche poi arriverà anche la polizia della noia ma io vi do delle chicche e spero che un domani prendiate appoggio spiegato a controcazzo che cos'è la pelota o ragazzi noi 18 anni 20 andavamo alla pelota in via palermo milano e andavamo a vedere questi baschi che giocavano e così come i cavalli o altre cose c'erano bande di scommettitori eccetera era un gioco legale riconosciuto ma era soprattutto bello da vedere andavi anche mica senza scommettere no e nessuno sapeva cos'è la pelota basca io mi vergogno di andare su controcazzo comunque dicevo tanti temi e tanti li tratteremo tra poco poi volevo il vostro parere live poi il film questa cosa appunto del turn over le partite di udine contro contro questo costa rugna e ciccio io non so come si pronunci rugna ic ok che poi è un tedesco di origine croata come tantissimi insomma sono passaporto tedesco origini croate allenato in germania un sacco poi dopo aver fatto il legge a varsavia sono stato nella sede legge a varsavia incredibile mi sono ad entrare in una non so in un bullying invece va il retro dello stadio stadio comunque bello squadra tifatissima e però in centro valsa c'è ma vabbè comunque lasciamo stare che se mi viene in mente lo dico perché c'è il tema stadico un altro tema scottante comunque una squadra forte così come forte il toro di vanoli e poi ci sarà ci sarà la stena rossa che non è più quella neanche allenata da 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 stankovic però è sempre una squadra che ha fatto la storia della champions si più che ha fatto ecco dire del passato però sai non si sa mai mi interessa vedere come sarà gestito il turn over per fortuna non abbiamo fatto questo turno preliminare coppa italia perché come sempre arriviamo nelle prime squadre nelle prime posizioni mentre il napoli giocherà così si stanca un po col palermo e così come noi ci stancheremo purtroppo la settimana in cui incontriamo con napoli e loro invece non giocheranno cazzo e quindi sarà un problema inter quindi che ha questo questo trittico no queste mini qualcuno dice già le mini tre finali non solo tre finali ma è un rischio prendere sotto gamba per il resto volevo puntualizzare la cosa su david volevo parlarvi di questo mondiale per tre barischio volevo tranquillizzare tutti sul discorso che l'inter ha un'anima enorme ha comunque zaghi che è da tanto all'inter e conosce certe situazioni ci è già passato quindi forse mancava quella chiarezza di obiettivi però ripeto se salta il mondiale tre club speriamo di no perché sono soldi in questo caso so che servono la mia inter spero di giocare questo torneo da calcio moderno però se dovesse saltare a quel punto lì cambiano i programmi ok nel senso che con i conti quasi che stanno andando a posto e con tutta una certa situazione se veramente a gennaio fai qualcosa puoi puntare a far bene benissimo anzi sia in campionato di champions però però ci sono troppi sedi vedremo già in questo trittico vedremo la posizione della stella rossa rispetto a due sfide fondamentali come udinese torino anche perché attenzione per me la rivale il napoli come ho già detto il napoli avrà in casa tre parti su quattro e queste tre partite saranno con tutto rispetto monza come lecce e una in trasferta empoli quindi il napoli da qua un mese e mezzo con i nazionali si sposta da napoli una volta sola per andare in toscana per il resto sono belli di cassero il turno san paolo viceversa esatto andate ritorno e giocano in casa con squadre fortemente battibili due notizie simpatiche come direbbe moratti cavani ha detto che c'era l'accordo totale con l'inter e poi branca è sparito quindi poi cavani è andato proprio al napoli per quanto riguarda invece il discorso dello stadio faremo il famoso video a parte perché io ne ho parlato tanto qualcuno si annoia ma poi di colpo il tema occupa tutta la gazzetta poi notizia dell'ultimo momento insomma sembrava dovesse andare chissà dove ho sempre detto che cesni è più forte di di gregorio oggi dirò deve ancora crescere fatto sta che cesni dice il mi ritiro mi ritiro e invece è invece altro a barcellona attenzione aggiuntoli che pianifica dei colpi per gennaio ecco qua che già io credo che uno dei nomi possa essere veramente in attacco e quindi così come cercheranno di non lo so di confermare caluro cercheranno di andare su un attaccante uno dei nomi è purtroppo jonathan david per il resto vi aspetto su efficiente news e e sono molto curioso di giocare di giocare a udine ma con fiducia è spero anche giocando in casa da udine è una delle partite che si vede nel film dell'inter ed è meraviglioso poi il gol di frattesi abbiamo giocato quasi in casa come diceva in zaghi insomma che bello forza inter sono ancora più interista come ha detto lo stalker oggi via messaggio sono ancora più interista grazie a tutti